bello ragazzi bentornati in questo nuovissimo video oggi ragazzi siamo qui con un ospite specialissimo saluta micchi e oggi ragazzi come facciamo che ha uno speciale fine scuola come speciale fine scuola oggi mi faccio stracciare da micchi vero micchi ok allora giocheremo a pes squadre casuali allora vediamo i giocatori che ci saltano fuori allora io sono la prima bene è il minimo il mio ma vaffa no dai ragazzi io sono questa io complimenti complimenti così a lui viene fuori nei mar messo ancora ancora scrivete esattamente in questo momento il vostro pronostico bocca o micchi lui dice lui io dico lui ragazzi inoltre scrivetemi nei commenti se siete felici della fine della scuola della scuola micchi è molto felice ma io lui come tutti gli italiani su se con l'arancione come tutti gli italiani della nostra età abbiamo un'esame non di terza media e di maturità vi consiglio di ascoltare questo video giusto mi ero scordato con le cuffie a volume molto basso perché se siete io ho trovato la prima scusa infatti non avevo motivo di dire fuori gioco perché è in netta posizione regolare ma perché io faccio delle minchiate ma chi è questa minchiata guarda guarda c'è una squadra di munga fatti ma è ragazzi abbiamo io ho fatto un cambio è uscito il vecchio nonno di 36 anni lulic ed è entrato a fare l'ho già metà dell'opera mamma mia no mista ho messo marcatura mista sono deficiente mamma mia mamma mia chiesa tripletta che gol di chiesa 5 a 0 la juve non farei sì e c'è il 7 a 0 è veramente una delusione con la tua poi a casa tua almeno uno c'è il gol della bandiera puntano ragazzi ci mettiamo nella prossima partita chiesa si porta a casa il pallone anche baffè ok ragazzi ci siamo seconda partita speriamo mio prendo chi calmo rock e lui prende il parma questa volta è niente e niente però è buona stavolta almeno un po buona ancora vai se è picchè picchè bonucci vinco io vediamo i giocatori mio è un portiere a tenta 3 stegni va bene va bene ma contento e se ma dai vediamo le maglie bellissime e in tutti i casi stavolta stavolta lì c'era Matteo sono quasi sicuro infatti ho fatto un giustaccio stavolta per me va in parità andiamo in parità ma in parità poi dei rigori poi degli spiattoli supplementari rigori e poi non lo so forse si risolvono i supplementari prima il primo l'ho fatto all'84 ma no ma è autogol silenzio Matteo ma è autogol non c'è bonucci mettila dentro adesso proprio l'unica cosa che non mi e raga mi chiede riconnesso il controller si riparte oppaaa c'è josi josi unici unici che giocatore uno che si ha fatto un autogol dai porca oh 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 porca no 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 ma che carbo faa finisce così il primo tempo ok raga ci siamo secondo tempo Miki si sta scaldando Palla di Lengle Vai Attenzione Ilicic Tripletta Joseph Ilicic E' 3 a 1 E' ancora un gol Marky Care Suona linea Chi è quello lì? No 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 Però non è possibile No Non è possibile No 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 E' adesso cosa abbiamo Matteo quanto ha rubato questa partita Ma vai Di bala Paolo di bala Vede Matteo quanto è un fichino E' finita Arbitro Guarda Vabbè ragazzi questo video si può concludere qui Spero Che non sa fare a giocare a pezza E' ben capito Spero vi sia piaciuto E niente Noi ci vediamo un prossimo video E inoltre Vi lancio un'altra sfida Se questo video arriva a 10 mi piace Cambio idea Porto Miki su FIFA Che quello è il mio campo E lì E lì Vedrà Ma se il video arriva a 15 mi piace Miki Sempre su FIFA Sfiderà PGDF Vabbè Ragazzi Con questo messaggio Il video ci può concludere qui Saluta Miki Ciao E noi ci becchiamo un prossimo video Ciao ragazzi Ciao